Franz Caruso in questo momento si sente tirato un po' per la giacchetta, so che ha contatti e relazioni con i vertici nazionali dei partiti, torno su quello che abbiamo detto prima, l'alternativa a Roberto Occhiuto. Questo esperimento anche di campo largo, di centro-sinistra, sebbene ci siano sensibilità diverse, la induce ad avere una visione proiettata anche altrove? Io ho sempre detto che ho assunto un impegno con i miei cittadini e voglio fare il sindaco fino alla fine del mandato, poi io sono un uomo, ero un uomo di partito, oggi mi sento un uomo pienamente delle istituzioni, per cui quando si parla di sviluppo delle istituzioni e mi si tira dentro, io non volto mai lo sguardo dall'altra parte, io sono abituato a fare le battaglie che però, che siano battaglie condivise, battaglie che gli altri mi dicono di condurre, io non ho visto l'autocandidatura del Presidente Occhiuto, io sono contrario all'autocandidatura, io sono un sindaco uscente e non mi autoricandido per fare il secondo mandato da sindaco, guido una coalizione, se la coalizione valuta positivamente il mio lavoro, mi chiederà di proseguirlo e io non mi tirerò mai indietro.